Il nuovo direttore del parco Monte Marcello Magra, perché ha deciso di inoltrare la candidatura per questa nuova opportunità? Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio Perfetti e ho fatto questa scelta di venire a lavorare qua per confrontarmi con un territorio complesso, un territorio complesso che ha tantissime sfide a cosa a cui sono abituato, perché anche dal luogo dove lavoravo precedentemente aveva degli aspetti simili e quindi l'idea è quella anche di provare direttamente a affrontare queste sfide in un luogo che conosco bene che è Amod, in cui vivo da molti anni e in cui non avevo mai avuto modo di misurarmi. Ecco, secondo lei quali sono le criticità su cui andare ad intervenire in primo luogo e quali i suoi obiettivi? Gli obiettivi naturalmente sono, nello specifico, poi quelli che vengono dati dalle norme, dal Consiglio Direttivo, però in questo territorio in generale si può dire questo, che lo sviluppo disordinato degli anni 60-70 ha creato le premesse per numerosissime e profonde ferite nel territorio che in parte sono recuperabili, in parte no e forse un ente parco che ha proprio nella sua missione quella dello sviluppo sostenibile e quella del recupero e del mantenimento dei valori ambientali ha proprio questo obbligo di individuare singoli obiettivi e fare in modo che tutti gli enti, perché l'ente parco non ha competenze a 360 gradi deve mettere insieme tutti gli attori che identifichino questi obiettivi come prioritari per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio per la conservazione delle risorse naturali e lavorino quindi la sentieristica, quindi le attività industriali in alveo quindi le discariche degli anni 70 abbandonate quando la gestione dei rifiuti solidi urbani e anche di quelli industriali era fatta con totale anarchia e così via tutte queste cose necessitano di tempo però necessitano di una mente, che è quella poi del Consiglio Direttivo e che deve poi applicare delle norme che esistono a livello regionale che porti avanti queste politiche è solo un ente sovraterritoriale cioè che abbraccia molti i comuni queste cose si fanno a livello di bacino quindi l'autorità di bacino da una parte, l'ente parco sono gli unici enti che sono rimasti e che possono portare avanti queste politiche in collegamento con tutti i comuni con tutte le associazioni e gruppi di interesse grazie a tutti grazie a tutti